Radio Pico Tutte copie di te Giuro la smetto di immaginare La nostra vita che non ci sarà Beh ma che emozione dal vivo Tutto live Wow 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 Non solo per la gioia dei fan E' la gioia di tutti veramente veramente Come stai Benjamin? Sto molto bene grazie E grazie per avermi qua oggi Mi fa un sacco piacere esserci Ok allora Ultimo singolo Esatto Giusto? Lo sottolineiamo Non ultimo disco Perché l'ultimo è riuscito un anno e mezzo fa Dal titolo California Ma oggi vogliamo parlare invece di Peter Pan Esatto Che cosa ci vuoi dire di questo brano Ma soprattutto perché Peter Pan? Io sono curiosa di questo titolo Perché mi sono reso conto Che sono Ho ancora un bambino dentro Io penso che comunque Anche se invecchiamo A livello anagrafico Abbiamo sempre quel bambino Ce lo portiamo dietro tutta la vita Anche quando siamo anziani insomma E ho un po' scoperto Che ogni tanto può essere un furbetto Questo bambino che ho dentro Questo Peter Pan E mi sento Peter Pan Ma sono in questa fase di transizione In cui vorrei diventare Un po' più adulto anche Quindi questa canzone simboleggia un po' La fine di una relazione Parla della fine di una relazione Ma parla anche del mio Dover a un certo punto Anche crescere Forse è arrivato il momento Di crescere su alcune cose Beh diciamo che quando qualcosa finisce Ci sta che si cresca Però senza mentire a se stessi Mai Guarda ti dico Ho detto tante bugie Negli anni Anche per Tra virgoletta fin di bene Perché volevo Anche far sembrare cose Più belle per gli altri Per persone anche che amavo O anche omesso delle cose In verità adesso ho deciso di vivere Con totale onestà E pura sincerità Perché alla fine È quello che mi avvicina di più A un percorso Che mi appartiene alla fine Quindi bugie anche a fin di bene Anche quelle le diamo No le bugie a fin di bene In verità sono Anche dire cose scomode Assolutamente Guarda Non è che cerco il confronto In maniera negativa Assolutamente Cerco sempre di essere positivo Mi piace solo Mi piace essere onesto adesso C'è una cosa che ho imparato Perché sulla mia pelle Alla fine Quando tu stai dicendo una bugia A qualcun altro Stai facendo male a te stesso Questo l'ho imparato sulla mia pelle Quindi in primis per te E poi di diverso Anche per gli altri Esatto Esattamente Vero Vero Senti A proposito di Peter Pan Oltre al singolo C'è già in cantiere qualcos'altro C'è altre canzoni Stai lavorando Progetti futuri Assolutamente sì Sto continuando a scrivere il disco Una canzone dietro l'altra Negli ultimi mesi Sono stato molto produttivo E continuo a scrivere Continuo a vivere E il mio obiettivo In verità Questo periodo Era semplicemente Guarire emotivamente Usare la musica Come modo per Come terapia Ci sto riuscendo Il percorso non è ancora finito Ma grazie a Dio Esiste la musica E tu sei bravo A guarire delle cose Perché io ho visto Il tuo documentario Respira Vero E lì si conosce veramente Molte volte Uno vuole essere Un superhero Vuole essere un supereroe E far tutto da solo Ma mi rendo conto Che senza i miei amici Senza la mia famiglia Senza le persone che lavorano Con me Il mio manager Io sarei niente Ovviamente senza le persone Che mi supportano Che ascoltano la canzone Che vengono ai concerti Tu sei tornato in Italia A vivere Dopo degli anni Che sei stato in America Com'è stato tornare? Proprio ritornare A far parte della vita Delle persone Che ti conoscevano Prima del successo Prima della fama È stato bellissimo Perché comunque Hollywood è un posto interessante Devo dire che Vivere tra anni e mezzo A Hollywood Mi ha un po' Fatto vedere Gli estremi di questa società Sia nel bene Che nel male Perché estremi A livello artistico Ti ritrovi A passare una serata Con The Weekend O con Chissà quale artista E poi ti ritrovi Però allo stesso tempo Che cammini per strada E trovi senza tetto Tantissimi senza tetto Che stanno soffrendo E ti chiedi Com'è possibile Che questa società Sia così estrema Ci siano così tanto L'opposto Esatto Esatto Estremo A livello di soldi A livello di tante cose E tornare in Italia Nella mia città Nella mia piccola Modena Mi ha fatto bene Perché è tutto un po' Più normale per me E con la tranquillità Poi riesco a lavorare meglio Riesco a godermi più Anche le cose piccole della vita Cioè proprio godermi Un pranzo con i genitori Un momento con gli amici Sono quelle piccole cose Che mi rendono felice Senti mentre stai lavorando Al disco Quando scrivi canzoni nuove Hai degli amici Molto intimi A cui fai sentire Le tue cose Chiedi consiglio Sì sì assolutamente Io quando scrivo Scrivo nel mio studio Uno studio a Modena Con i miei amici Che sono miei soci E in pratica Riccardo Quello dietro Alla telecamera Lì è uno E c'è Riccardo Francesco Davide Insomma un gruppo di amici Con cui faccio musica E siamo insieme A lavorare Da più di dieci anni Sono una sorta di consiglieri Consiglieri E anche ottimi musicisti Batterista Chitarrista E quindi insieme Creiamo le canzoni Io di solito porto Chitarra a voce Il testo Insomma l'idea E poi dopo sviluppiamo Facciamo fiorire Come se fosse un seme Che poi fiorisce nello studio Giusto Giusto Ma quanto è stata Visto che stiamo parlando Della musica Quanto è stata E quanto è importante La musica Nella tua vita Ma è fondamentale Nel senso che ho avuto Anche un periodo In cui ero quasi iniziato A odiare la musica Perché era diventato Il mio lavoro Ed è stato bello Per tanti anni Però mi sono anche sentito Quasi che stessi perdendo La passione Quando era diventato Solo un lavoro Praticamente Dopo 5-6 anni Che ero in tour Un disco dietro l'altro E invece Quindi sono stato un po' fermo Mi sono un po' allontanato Alla musica Ma ogni volta che mi allontano Poi alla fine ci ritorno Quindi la musica C'è sempre stata L'anima la chiama Vero? Esatto Però sappiamo che Nella tua carriera Hai fatto anche l'attore Esattamente In set cinematografici Importanti Insomma Come è stato Vivere questa esperienza Ma soprattutto Recitando in inglese In americano Sì sì In inglese Beh è stato È stato molto bello Fare film Sicuramente impegnativo Poi io sono Un attore nuovo Diciamo Ho fatto solo due film Per adesso E In verità Time is up Time is up 2 Che sono il secondo Uscito da poco Anche su Amazon Prime Esatto Esatto E però Continuerò a fare questo mestiere Perché mi piace Perché Penso che Se mi impegno E ci metto il cuore Mi verrà molto bene Quindi nei prossimi anni Vedrete tanti altri miei film Noi siamo sicuri Non vediamo l'ora Assolutamente Ah quindi Cioè il cinema È entrato La gamba tesa È una mia vita Però È entrato Ma era una cosa Che a cui avevi pensato Oppure è stato proprio Una serie di eventi Che ti hanno No assolutamente Io non ho mai pensato Di fare cinema E poi quando Mi sono fidanzato Con la mia ex Tre anni e mezzo fa E ho iniziato A vedere lei Lavorare sul set Perché lei è un'attrice E mi ha fatto appassionare Questo mestiere E poi mi è arrivata Un'opportunità E ho iniziato E ho detto Perché no E adesso mi piace Quindi continuerò Quindi questo glielo devo A lei Mi ha introdotto A questo mondo qua Ognuno insegna qualcosa Giusto Nel nostro percorso A prescindere Da quanto duri Un rapporto Assolutamente Possiamo parlare Però di tatuaggi Cioè io ti vedo Tattuaggi Guarda è vero Sull'avambraccio Sì sì Uno dei miei primi tatuaggi Senti ma è vero Che hai anche un tatuaggio Un budino Che è dedicato Ho un budino Che è qua Un budino dedicato A mia madre E poi ho anche un mucchino Che è una mucca Con l'unicorno Diciamo che Vabbè Mi ero anche tatuato Sul braccio Sono pazzo Però sei tolto You're crazy Sei tolto Non hai rimasto niente Però me lo tatuato Vedi stai maturando Quindi un po' di pazzia Magari la lasciamo No Un po' nel passato Per portare Quella non se ne va Come si può dire Incanalare Quell'energia Verso cose positive Ho visto anche una data Che hai sulla mano Vero Questa è la prima E ultima data Del mio primo tour Ah ok Con Fede Giusto Con il duo Benji e Fede Che ricordi hai Anche di quell'esperienza Tanti ricordi Alcuni molto belli Soprattutto molto belli Anche difficili Perché comunque Abbiamo lavorato tanto Abbiamo passato Di momenti difficili Siamo fratelli Io e Fede Ci vogliamo bene Dell'anima Quello che abbiamo condiviso Noi Lo sappiamo solo noi È stato Giusto Mi è stato formato Sono stati dieci anni Incredibili E sono super riconoscente Grato di aver vissuto Quello con lui Senti che emozione è stata Esibirti all'Arena di Verona È stato incredibile All'Arena di Verona Sono state due serate Tra le più belle della mia vita Tra l'altro la prima L'Italia era anche in finale Agli europei Quindi abbiamo fatto il concerto Il concerto era Durante la partita Poi siamo andati Supplementari Quindi finito il concerto Siamo corsi A guardare Supplementari e rigori Abbiamo vinto Quella sera lì Abbiamo detto Arena di Verona L'Italia vince Agli europei È stato perfetto Senti non ti chiedo Se guardi i mondiali Perché non Li guarderò Per così Per passione Senti mettiamo una canzone Mettiamo una canzone Visto che abbiamo parlato Anche dell'esperienza Benji e Fede Io direi che possiamo Ci riascoltiamo Con dove e quando Qui su Radio Pico Le notte iniziano Per le nostre vecchie Eccola qui Forse forse Ama gli oasis Ben Forse Giusto un po' Giusto un po' Ma Liam o Noel O entrambi Tutti e due Non faccio preferenze Una cosa divertente Che mio fratello vive a Londra E vive nello stesso appartamento Che era di Liam Penso Liam Wow E non è andato distrutto Sai perché Sono un po' Dei pazzerelli loro Però no Ogni tanto ricevo ancora Le lettere dai fan Anche di insulti No però Tanti complimenti Senti Fuori onda Parlavamo Anche della tua Attività fisica Nel senso che Abbiamo scoperto Che ti sei lanciato Appunto Nella Diciamo Come meta Volevi Partecipare A una maratona Esatto Riesci ancora Ad allenarti Come runner O sei passato Ad altre attività Allora Ho imparato qualcosa In questi anni Che se non mi alleno Fisicamente Quello che ne risente Al di là Della appunto La forma fisica E mentalmente Vado In dei brutti posti Quindi L'attività fisica Mi aiuta proprio A stare sano Di testa Perché sono un po' Pazzerello io E quindi La corsa Negli ultimi anni È stata una cosa Che mi ha aiutato molto Ho corso una maratona A New York Però in verità Adesso ho passato Dalla corsa Adesso sono al kickbox Mi piace tantissimo Bellissimo sport Lì ti spogherei di sicuro Anche nel mangiare Sei sempre stato molto attento Vero? Anche per un fattore mentale Forse Sì Noto che quando mangio Certe cose E non altre Sono più funzionale Sono meno triste Sai Sono quelle solite cose Che è più facile Da dire Che da fare Perché quando poi Si parla di certi cibi Poi in Italia Si mangia benissimo Però sto cercando Di stare attento Fa parte anche del mio mestiere Lavoro con la mia immagine Devo curare Devo curare il mio corpo Devo curare la mia mente Giusto Giusto Senti ho visto anche Una tua intervista Cioè una intervista Una chat tra te Ed Ed Sheeran Tu che Sì 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 Ed Sheeran che cercava Di parlare in italiano E tu che ogni tanto Esatto Ma lui è bravo A parlare in inglese Sì no Ma sto dicendo Che lui comunque Tentava di Faceva di insegnanti Di italiano Ed Sheeran Sta facendo lezioni Di italiano Perché gli piace Proprio la lingua Quindi ogni tanto Mi parla in italiano Che bello Bellissimo Sono tanti gli artisti Che amano l'Italia Ad esempio ho letto Che Mick Jagger È tornato in Italia Adesso sta trascorrendo Qualche settimana In Le sue vacanze In Sicilia Sì l'Italia È uno dei posti In assoluto preferiti Degli americani O tanti amici americani Artisti E attori Che vengono in Italia Praticamente tutta l'estate O in Sardegna O in tanti altri posti Anche in Puglia Bene Senti Noi ti ringraziamo Grazie per averci fatto Grazie a voi Un super piacere Bellissimo Disponibilissimo Bravissimo E bellissimo Eppure Ve lo dico assolutamente Tantissimo Tantissimissimo Sai che non si era notato Che Grazie mille Grazie mille In bocca al lupo Per tutto Grazie ancora a te Ciao 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 Ciao